21esima edizione del premio letterario internazionale l'Aquila B per banca intitolato alla Domi a Bonanni, uno dei premi di poesia più longevi in città. Tornano gli studenti in questa edizione ad accompagnare la cerimonia di premiazione del 19 novembre. Ci saranno altri appuntamenti nel giorno precedente con un convegno sulle donne giornaliste di metà 900 oltre agli appuntamenti di incontro tra la giuria tecnica e la giuria degli studenti. Nell'edizione di quest'anno c'è anche una novità, l'accordo con l'Università degli Studi dell'Aquila per una borsa di studio. Riteniamo la cultura un motore dello sviluppo dei territori, un motore di sviluppo di tutto ciò che la cultura può abbracciare, compresa l'economia. Il premio Laudomia Bonanni giunge la sua 21esima edizione, è un momento in cui ci si ritrova nella città dell'Aquila per celebrare questa figura importante proprio della città dell'Aquila. E quest'anno abbiamo anche una novità, abbiamo pensato di coinvolgere gli studenti con una borsa di studio che sarà messa a disposizione del migliore elaborato che sarà scelto, riguarda proprio la vita e le opere di Laudomia Bonanni. Il premio Bonanni ogni anno ospita poeti di caratura internazionale. Quest'anno si tratta di Ilia Camischi. Un grande poeta della new generation americana ma ha una storia straordinaria. Ilia Camischi nasce ad Odessa quando Odessa era ancora Unione Sovietica. Scappano perché perseguitati in quanto famiglia ebraica. In America dove la famiglia si trasferisce scopre la vena poetica. Ma è una vena poetica che racconta l'Europa, che racconta la guerra. È un poeta ucraino. Quindi abbiamo un nome straordinario circondato da eventi e da fatti. Il premio, molto importanti. Rientrano in gioco i giovani, rientra in gioco la giuria degli studenti. Quindi un'edizione la ventunesima davvero speciale.